Buon anno a tutti ragazzi, buon 2021 a voi e alle vostre famiglie. Speriamo che questo 2021 sia un anno migliore in tutti i sensi del 2020 che è stato un disastro ragazzi. Quindi fuck fuck 2020. Detto questo, in questo video voglio parlare di un oggetto sconosciuto nel Napoli ormai, un oggetto sconosciuto che si chiama il Victor Ozzy Man. Il nostro bellissimo attaccante che quest'anno abbiamo comprato per la bella soglia di 70 milioni di euro e che poi abbiamo anche dato alcuni giocatori in cambio. Quindi di conseguenza volendo Ozzy Man è stato pagato 40-50 milioni perché abbiamo dato 2-3 giocatori in cambio quindi di conseguenza non è stata pagata la cifra intera di 70 milioni. Però comunque sono soldi ragazzi. Attualmente soldi buttati nel batter perché ha giocato poche volte, è superiore infortunato per colpo delle nazionali in Nigeria. La spalla, il braccio, il polso sta ancora forse, lo rivediamo a febbraio. E udite udite, ha preso anche il covid, ha preso anche il coronavirus. Come non bastasse. Questo 2021 per noi difusi del Napoli inizia peggio del 2020. Siamo fortunatissimi. Però poi sono venuto anche a sapere, ho visto dei video dove Ozzy Man due giorni fa per il suo compleanno stava in Belgio per curarsi dall'infortunio. Anche se sinceramente ha sbagliato secondo me il Napoli in questo momento del coronavirus. Ho mandato in Belgio a curarsi. Era meglio che rimaneva in Napoli senza rischi. Lo mandi lì, dispostamente ha preso il coronavirus. Su questo dobbiamo crescere, spesso siamo dei dilettanti. Però a parte questo ho saputo anche che è stato due giorni fa il suo compleanno e lui nonostante stava in Belgio a curarsi si è preso alcuni giorni per andare in Nigeria nel suo paese e lì oltre a festeggiare il suo compleanno lì in Nigeria ha fatto un video musicale di un cantante del trapper nigeriano dove in questo video buttavano i soldi per terra eccetera. A parte lo squalore di questi video, che a me questi tipi di video non mi sono mai piaciuti di buttare i soldi a terra nei video di questi rapper, trapper buttando i soldi anche finti o per finta nel video, che poi sembrano veri, sono veri e soldi buttati alla misera, per dire io non ho tanti, butto questi video non mi sono mai piaciuti, però a parte questo. E Ozyman era la West Star di questo video che il cantante nella sua pagina di Instagram ha pubblicato questi video due giorni fa con foto e video di Ozyman e che anche lui buttava i soldi in questo video e c'erano tanti ragazzi di colore a fianco a lui, centinaia di persone in questo video musicale questo compleanno di Ozyman con Yacool, lui senza mascherina, tutti senza mascherina ammassati, senza autorizzazione del Napoli che sicuramente gli farà una maxi multa fa benissimo della prendersi a prendere grandi provvedimenti è stato un coglione, un cazzone e ne paga le conseguenze è giovane, è verissimo, 22 anni, ha fatto una cazzata enorme però il Napoli deve avere provvedimenti perché un ragazzo che deve far capire i soldi sono andati in testo perché non li abbiamo avuti tanti non li sono andati in difficoltà eccetera però ragazzo mio, già se giocando poco e ti stai prendendo tanti soldi con l'infortuno lungo che abbiamo visto due volte già è una grande perdita per il Napoli come senza Ibrahimovic e Romina, senza Ronaldo per la Juve senza Lukaku per l'Inter, è una grande perdita a noi non so, abbiamo Mertens, Polisano e Petagna adesso l'incubre deve giocare solo con Petagna e Mertens soprattutto solo con Petagna a prima punta le prossime partite, fine febbraio sperando che a febbraio torna Osimene, che è un'incognita non siamo mai fortunati con gli attaccanti ragazzi Daiwain e Cavani, Midic, Osimene, che tragedia dobbiamo cambiare secondo me il dirigente sportivo Giuntoli non ingarna, non una zecca, un acquisto e Isai, Marorui, Midic, dopo Midic che sta fuori rosa che forse se ne va a gennaio o a giugno Osimene, con gli attaccanti non abbiamo fortuna e dobbiamo comprare un dirigente sportivo buono perché solo pacchi ci stanno portando pacchi di Natale e poi dobbiamo spendere soldi per giocatori già fermati e forti alebra, imovic, eccetera, eccetera e non promesse come Osimene può essere un grande attaccante ma attualmente non l'abbiamo potuto vedere tra infortuni, coronavirus e cazzate da venerdì si fa bene a prendere i provvedimenti e sto ragazzo ha fatto una cazzata e speriamo bene ragazzi detto questo, forza Napoli sempre buono nel 2021 di voi e forza Napoli sempre forza Gattuto e forza Ringo speriamo bene questo nel 2021 ma già parte madre ci vediamo nel prossimo video ragazzi ci sono tutte le casse da Vessana poteranno tu